Buongiorno, oggi vorrei leggervi una balena va in montagna. Una volta in montagna ho incontrato una balena, si chiamava Niska. Era una balena davvero curiosa che inseguiva le domande in ricerca di risposte. Tra le domande di Niska ce n'era una grandissima. Da dove viene l'acqua del mare? Il suo amico Salino aveva una piccola risposta. Il mare nasce da una sorgente in alta montagna. Lassù. E come si arriva lassù? Ha domandato Niska. Devi arrivare al fiume e poi seguire i salmoni. Ha risposto Salino. Loro sanno come fare. In un primo tempo è stato facile perché il fiume largo e profondo assomigliava al mare. Ma più Niska risaliva più il fiume si faceva stretto diventando torrente. Poi il torrente si faceva ancora più stretto diventando ruscello. Giunta quasi alla sorgente Niska non riusciva più ad andare né su né giù. Il passaggio era stretto. Caspita! Ha esclamato. Credo proprio di essermi incastrata. Io abitavo lassù. Mi arrampicavo su un albero per misurarmi con le mie domande. Quella più in alto era di tutte era com'è il mare. Lo immaginavo spesso ma non c'ero mai stato. La mia amica Crestaguzza vedeva anche le risposte più lontane. E quella volta mi ha detto se vuoi conoscere il mare devi seguire il ruscello che attraversa il bosco. Lì tra i mughetti ho trovato una grandissima cosa blu. Tu sei il mare? Ho domandato alla cosa. Io sono una balena ha risposto Niska. E tu saresti così gentile da darmi una spinta? Allora ho spinto con tutte le mie forze ma la balena non si muoveva di un millimetro. Che sciocca sono stata! Ha sospirato Niska. Il mare era un posto così spazioso. Perché ho cercato una risposta a una domanda più grande di me? Due goccioloni enormi sono caduti dai suoi piccoli occhi. Poi altri due. Poi altri quattro. Le lacrime. Dopo lacrima il ruscello è cresciuto fino a diventare un impetuoso torrente. Niska finalmente era libera. Vuoi venire con me? Ha esclamato. Io subito le sono saltato in groppa. e insieme ci siamo tuffati in una discesa spericolata. Lacrime, ruscello, torrente, fiume e infine il mare. Laggiù Niska mi ha mostrato i luoghi dove le piaceva stare. Il suo preferito era la grotta sonora in cui si esercitava con il canto. Poi tra gli scogli sono spuntati i granchi ballerini che battevano le chele in segno di amicizia. Un'ombra è guizzata sotto di noi. Quando Niska non c'era, salino abitava tra le alghe. Ma quando c'era preferiva abitare attorno a lei. A lungo ho respirato il mare. Il suo continuo movimento mi cullava mentre in lontananza scorgevo il profilo fermo delle mie montagne. Pensare che viene da lassù, ho sospirato. Proprio come te, ha sospirato Niska. Siamo diventati un po' tristi. In quel momento sopra di noi è apparsa un'ombra. Crestaguzza, non vista, aveva seguito il mio viaggio. Saresti così gentile da darmi una spinta? Ho chiesto allora a Niska. E lei, con un soffio potentissimo, mi ha proiettato verso il cielo. Dove ho afferrato la zampa della mia amica aquila, che volando sicura mi avrebbe riportato a casa. Ti voglio bene! Ho gridato guardando giù. Niska mi ha salutato con la coda e poi, piano piano, si è inabissata. È stato così che ho conosciuto il mare. Da quel giorno, tutte le volte che sento la mancanza di Niska, accarezzo una goccia di pioggia, perché so che quella goccia diventa ruscello, torrente, fiume e infine, la mia carezza la raggiunge. Questa è una storia molto poetica, scritta da Esther Armanino, disegnata da Nicola Magrini, pubblicata da Salani Editore. Una balena va in montagna. A domani! Grazie a tutti!